Gli investigatori la ritennero inserita in un giro di cocaina spacciata in città. È definitiva la sentenza di condanna già emessa sia in primo che in secondo grado nei confronti di una 49enne. Venne coinvolta nell'indagine che consentì di accertare alcuni episodi di vendita a clienti abituali. La droga veniva acquistata in altre piazze di spaccio dell'isola e poi fatta arrivare in città per essere rivenduta a diversi assuntori. Il verdetto che le impone 4 anni e 6 mesi in reclusione è stato confermato negli scorsi giorni anche dai giudici della Corte di Cassazione. La sentenza prevede 20.000 euro di multa. Ai magistrati romani si è rivolto il difensore di fiducia, l'avvocato Maurizio Scicolone, subentrato solo dopo il giudizio d'appello. Secondo la linea di difesa non ci sarebbero state prove certe per sostenere che la donna fosse direttamente inserita nel giro di spaccio, ma gli investigatori si sarebbero limitati a ricostruire il contenuto di conversazioni telefoniche. Intercettazioni, secondo quanto sostenuto dal legale, che non avrebbero assicurato riscontri chiari sull'effettivo coinvolgimento dell'imputata. I giudici romani hanno però respinto il ricorso e confermato la condanna. La vicenda risale a circa dieci anni fa e riguarda un'operazione di polizia giudiziaria condotta dalle fiamme gialle gelesi, che aveva permesso di smascherare un'organizzazione criminale composta da ben 88 persone, della quale la donna faceva parte, dedita al traffico internazionale di droga, in collegamento con l'organizzazione mafiosa di Cosa Nostra ed operante sul territorio di Gela e Niscemi. La vicenda penale era stata inizialmente incardinata presso la direzione distrettuale antimafia nissena e poi successivamente trasferita per competenza alla procura di Gela. L'arrestata all'epoca dei fatti era risultata attiva nel trasporto della droga e nel favorirne l'ingresso nel comprensorio gelese.